La Cirenaica Scopri il primo quartiere in città con 18 punti vendita della grande distribuzione. Grazie alla riduzione di alloggi popolari, spazi verdi e luoghi di aggregazione, ampi parcheggi è tutti per te. Evita le code grazie alle case automatiche e poi via di corsa per le stradine del quartiere. Tanto io qua mica ci abito. Supermercato Cirenaica. Graziosa ambientazione storica, ancora qualche traccia residua di identità di quartiere e tanta tanta convenienza. Affrettati, con solo i pochi punti avrai in omaggio l'album con le foto della Cirenaica prima della grande cementificazione. C'è la Cirenaica. C'è un problema effettivo di proliferazione di aree commerciali nel nostro territorio. E' vero che noi siamo cittadini e non solo consumatori. Qui è già tutto fatto. Poi aggiustate il percorso, aggiustate qualcosa. Siete veramente convinti che questo è quello che vuole, questo rione. Grazie a tutti.